Ultimo cambio in console della notte, in motion, quindi tutti con le mani al cielo, dobbiamo dare il benvenuto a due cari amici, ricordando a tutti voi l'appuntamento 14 agosto 2007, EQ Remini! Sarà un'altra notte magica, EQ Ferragosto d'Italia, le mani al cielo, sì! E così, diciamo il benvenuto! In sound, Estorio Cray, back to back, ovvero sia un disco a testa! Consoli in sound, Dottor Zotta DJ! Consoli in sound, Dottor Zotta DJ! Analogic boy! Tutti con le mani verso il cielo, in motion! Ultimo cambio in console della notte, non sento le tue mani tenere il tempo! Consoli in sound, Dottor Zotta DJ! BATTE 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 LÊTRE MAHANI Fatto un salto DJ Yeah In motion Back to back, Dr. Zoddj Josh Rai Rashi and Aloncheboy Yeah These are the sounds of Broken Bats These are the sounds of Broken Bats In motion Yeah These are the sounds of Broken Bats Broken Bats The sound of 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 Broken Bats Back to back Ladies and gentlemen, welcome to the first edition of E-Motion 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 Grazie a tutti